Questo video non è rivolto ai guerrieri di luce, ma è rivolto ai guerrieri delle tenebre. Sì, perché così come ci sono guerrieri di luce che lavorano nell'amore, nella gioia, nella compassione, nell'empatia, nella fratellanza universale, allo stesso modo ci sono dei guerrieri che invece lavorano nell'oscurità, lavorano spinti dal male, dall'egoismo, dall'avidità e a volte cercano proprio di ostacolare e di combattere i guerrieri di luce. I guerrieri delle tenebre possono essere degli sciamani neri o dei maghi neri, o potete chiamarli un po' come volete. Sono comunque delle persone che lavorano sul piano spirituale solo per acquisire potere e per dominare il prossimo, per soggiogare il prossimo, in modo da poter ottenere ciò che desiderano. Per questo motivo i guerrieri delle tenebre non vogliono in alcun modo che il sapere esoterico venga divulgato in larga scala. Questo perché ovviamente se più persone iniziassero ad acquisire questa antica conoscenza e soprattutto iniziassero a mettere in pratica gli antichi insegnamenti spirituali, loro perderebbero la possibilità di poter manevrare e manipolare il prossimo. I guerrieri delle tenebre sono i primi a dire che la magia non esiste, che sono tutte fandomie, che prendono in giro le persone che praticano la spiritualità, che pensano di poter agire sugli eventi attraverso un rapporto diretto con il divino e con le proprie guide spirituali. E lo fanno proprio perché vogliono inculcare nella mente delle persone che tutto ciò che ha a che fare con la spiritualità, con il contatto con il mondo spirituale, è soltanto una fesseria. Io purtroppo vengo spesso attaccato spiritualmente dai guerrieri delle tenebre, proprio perché come vi ho detto loro non vogliono che il sapere sciamanico, il sapere esoterico e spirituale venga divulgato. E come sapete io da sempre attraverso il mio lavoro, ma soprattutto anche attraverso il mio canale YouTube, cerco di divulgare in larga scala tutti gli antichi insegnamenti spirituali e soprattutto gli insegnamenti sciamanici. E questo ovviamente fa arrabbiare qualcuno. Tra questi guerrieri delle tenebre che spesso cercano di ostacolarmi, ci sono anche degli sciamani, definiamoli neri, anche se ovviamente è soltanto un termine per farvi capire che non lavorano nella luce. E molto spesso cercano di attaccarmi durante il sonno, mentre sto dormendo, mentre appunto sono più vulnerabile. E magari la mattina mi sveglio con dei segni sul corpo, con dei lividi molto estesi, e capisco subito che hanno cercato di attaccarmi. A volte cercano addirittura di sottrarmi potere personale, di sottrarmi energia vitale, e di bloccarmi in tutti gli aspetti della mia vita. E la cosa buffa è che pensano che io non me ne accorga. Ma dovrebbero sapere che comunque io lavorando quotidianamente con le mie guide spirituali, sono sempre a conoscenza di quando qualcuno cerca di farmi del male, o cerca di rubare la mia energia spirituale. Finora non ho mai parlato di questi attacchi che mi vengono fatti, ma ho deciso di fare questo video perché è mio interesse avvisare queste persone che lavorano in maniera così meschina e così subdola. Avvisarli soprattutto del fatto che io sono uno sciamano ma non sono un santo. Per cui ogni volta che mi viene fatto un attacco spirituale, io lo rimando indietro, non triplicato, ma quintiplicato. Per cui ovviamente ne sconteranno le amare conseguenze. Queste persone dovrebbero anche sapere che si riceve sempre quel che si dà. Quindi prima o poi la vita ci fa pagare il prezzo delle nostre azioni. Ma al di là di quello che farà poi la vita, di cui ovviamente io non sono responsabile, ripeto, io tutto ciò che mi viene fatto lo rimando indietro con gli interessi. Ma tutto ciò che viene di fatto di male a me, alle persone che amo, ai miei amici e ai miei familiari. Perché sono veramente delle cose che io non tollero. Ripeto, non sono un santo. Gli sciamani non sono santi, non sono guru, sono delle persone normali. Io cerco di lavorare sempre nella luce, nell'amore, nell'accoglienza, nella fratellanza universale. Ma quando vengo ostacolato in maniera così forte, così feroce, da dei guerrieri delle tenebre, che hanno soltanto interesse ad agire per acquisire potere sugli altri, per poter manipolare gli altri, soprattutto perché vogliono tenere nascosta la conoscenza spirituale, allora io mi difendo e, oltre a difendermi, parto anche al contrattacco. Inoltre voglio anche dire a questi guerrieri delle tenebre, che continuano negli anni, insistentemente a cercare di ostacolarmi, nonostante appunto sia passato veramente molto tempo e che non siano mai riusciti nel loro intento, che le mie guide spirituali sono molto protettive nei miei confronti. Per cui, un po' come quando viene aggredito un cucciolo, non so, di orso, la mamma orsa poi scatena tutta la sua rabbia e la sua energia distruttiva nei confronti del predatore. Quindi, occhio, uomo avvisato, mezzo salvato. Adesso invece mi voglio rivolgere ai miei guerrieri di luce e voglio dirvi di non aver paura dei guerrieri delle tenebre e soprattutto di non aver paura di divulgare la conoscenza spirituale perché la conoscenza spirituale e soprattutto quella volta verso il bene universale è assolutamente necessaria, soprattutto in questo periodo storico perché, come avrete immaginato, l'umanità si trova ad affrontare un periodo molto critico e quindi occorre l'aiuto, l'impegno e la forza di tutti i guerrieri di luce per poter giungere a una nuova era. Finché lavorerete nella luce e nell'amore non avrete niente da temere. Le vostre guide spirituali vi aiuteranno, vi guideranno e vi proteggeranno sempre e ricordatevi che le vostre guide spirituali sono sempre più forti di qualsiasi guerriero delle tenebre. Vi invito ad essere come la fiamma di una candela. La fiamma di una candela è in grado di accendere tantissime altre candele senza perdere la propria luce ed è esattamente quello che fa un guerriero di luce porta la luce dove c'è oscurità e tutti insieme possiamo veramente riportare la luce dell'amore universale nel nostro mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.